Partiamo col dire che i giovani aiutano a far sì che la conoscenza sul termine metaverso cresca perché se il totale campione si interessa, incuriosito, poi quelli che realmente in questo periodo stanno cominciando a vedere veramente che cos'è il metaverso immergendosi nel metaverso sono prevalentemente i giovani maschi rispetto alle femmine di età inferiore ai 35 anni. Quindi questo è il target di riferimento su cui ora si svolge anche un certo approccio di comunicazione da parte delle aziende. Fermo restando che ci sono delle diffidenze, ci sono delle paure, la prima su tutti la paura della riservatezza dei dati, la tutela della privacy, non c'è una, secondo i nostri intervistati, una regolamentazione ancora molto chiara. Quindi è un po' come se fosse il far west digitale, cioè ci si accaparra lo spazio ma ancora non si conoscono bene le leggi. Bisogna partire da una comunicazione circolare che sia trasversale e che non sia naturalmente segmentante verso i giovani. Cioè bisogna spiegare intanto che cosa vuol dire metaverso. È un non luogo, come direbbe Auger, è un luogo virtuale dove però si fanno esperienze reali, quindi le aziende, le istituzioni come la regione Piemonte creano degli sportelli per accogliere anche persone di un target diverso, quindi anche gli over 55 per esempio. Allora questo è un sistema che diventa anche utile, che è la cosa fondamentale, l'innovazione al servizio della semplificazione e del miglioramento della vita dei cittadini. Ci vuole un'educazione civica digitale, cioè noi abbiamo una delle più grandi paure dei padri verso i figli che utilizzano il metaverso, che si immergono nel metaverso e proprio questo potenziale appealing molto forte che può portare a una dipendenza e a uno scollamento sociale. Quindi è bello poter vedere il luogo dove uno vuole andare o prendere un caffè con l'influencer del momento, almeno a livello virtuale. Attenzione però perché l'immersione profonda che cattura tutti i sensi e è veramente avvolgente può portare una sorta di dipendenza che magari poi fa rinchiudere ancora in se stessi i ragazzi. Noi abbiamo colto l'occasione per vedere le prime intenzioni di voto nel metaverso perché è troppo fresca la tornata elettorale del 25 settembre per non andare a chiedere agli abitanti del metaverso come avrebbero votato. Ci sono delle evidenze interessanti, cioè la coalizione di centrodestra e di centrosinistra si avvicinano alle distanze e si riducono molto perché crescono la parte per esempio di più Europa e di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma il vero dato è che cresce molto il Calenda e Renzi e cresce il Movimento 5 Stelle che diventa il secondo partito nel metaverso superando il Partito Democratico. Quindi per il PD una sconfitta anche sull'emeteverso? Diciamo che ribaltiamola, potrebbe essere un'opportunità perché anche lì c'è un momento, diciamo che però la sta accogliendo meglio il Movimento 5 Stelle.